Si chiama Gaia, no? Si chiama Gaia, è la tua ragazza, che è una figlia. Complimenti perché stare con uno come Nanni ce ne vuoi, quindi vorrei congratularmi. Questo è il tuo, ti risparmi tutte le volte. Perché non dovresti? Non c'è più rispetto. Non sono costrette della loro tag, grazie per i bit. Quindi scusate, avete spiegato la ricetta? Sì, io sto facendo, è proprio...